E' bastato alzare gli occhi al cielo e lasciarsi scaldare dai primi raggi di sole per accorgersi di essere entrati nel primo giorno di primavera. Il 21 marzo però non scandisce più solo l'ingresso nella bella stagione, ma è ormai riconosciuto anche come giornata mondiale della poesia. Le scuole superiori di Pesaro, insieme al liceo Raffaello di Urbino, questa mattina hanno regalato ai passanti di Piazza del Popolo tutta la loro voglia di condividere emozioni. Le emozioni del progetto evocativo Il pane e le rose che dal 2014 continua ogni anno a invadere le vie del centro con versi poetici che riecheggiano per tutta la città. Micro argomenti affrontati durante la mattinata tra la piazza, Palazzo Gradare e Palazzo Mosca che hanno trattato diversi temi, dalle poesie migranti recitate da ragazzi stranieri in lingua originale alla poesia d'autore fino alle autentiche poesie dei giovani ragazzi che oggi, grazie al comune e ai professori delle varie scuole, hanno trovato un canale preferenziale per riuscire a esprimere la miriade di sentimenti interiori che la poesia riesce a far emergere. Laddove l'orizzonte è sfocato da una nebbia insistente, io danzo con fiatto affannato su un fuoco ardente. Laddove l'alba è fredda da un sole spento, io troverò un modo che splenda, anche se ricoperto di fallimento. Laddove l'acqua è agitata da una tempesta irrequieta, io venni sovrastata senza raggiungere la meta. Laddove l'odio è vita, dato da un tramonto nero, io cerco una rinascita dopo la caduta del mio impero. Io ho sempre scritto, ho sempre scritto e ho sempre disegnato da quando sono piccola, più che altro nei momenti in cui mi annoiavo di più mi ha dato ancora più ispirazione nel fare e nel produrre cose perché comunque sia il metodo comunicativo che mi piace di più. È un momento per la poesia credo di grande riscoperta, di grande ritorno, la poesia è una delle prime forme che affascina da giovani, le prime cose che si iniziano a leggere dai classici ai poeti maledetti piuttosto che alcune cose anche studiate a scuola, ma è anche un modo per esprimersi, come è un modo per esprimersi a questa giornata legata all'inizio della primavera, per fortuna anche accompagnata dal sole e a questo richiamo del pane e le rose che ovviamente è una citazione rispetto a uno storico movimento, anche poi è un bellissimo film e che i ragazzi delle scuole di Pesaro, i Mangaroni in particolar modo, ma nel tempo anche l'alberghiero, oggi anche il liceo di Urbino e altre scuole di Pesaro hanno recepito proprio in maniera manifesta distribuendo pane, rose e poesie nella piazza nel centro di Pesaro già da qualche anno e questa è un'edizione particolarmente fortunata e partecipata. È una giornata meravigliosa baciata dal sole che corona anche tutta questa iniziativa e questa partecipazione capillare da parte di tutte le scuole. Sono tantissimi gli studenti che questa mattina diventano attori e protagonisti di un percorso dedicato alla poesia, non banale perché tante volte si pensa che la poesia sia riservata a un'elite, a pochi eletti, invece questo è un modo per riprendersi, per riappropriarsi di un bene collettivo che è quello della parola, che è quello della poesia e della bellezza. Una mattinata in versi che si è prolungata fino al pomeriggio a Villa Caprile, quando l'Istituto Agrario Cecchia ha aperto al pubblico il laboratorio di naturopoesia. Poesia e natura insieme per creare effetti benefici sull'uomo. Non è mancata una piccola escursione nel parco lo San Bartolo adiacente alla scuola con esperti che hanno approfondito il settore dell'ecologia che si occupa di relazioni affettive, del sentimento che ci lega alla natura e alla terra in cui viviamo. Continua la tua risacca, porta una nuova penchiglia, ma rotto è l'incanto, mia sirena. Non credo più alla schiuma delle tue parole, nella rete no, io non ci casco più. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS